La Puglia dice addio definitivamente a 80 milioni di euro di vecchi aiuti comunitari, lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea. I giudici hanno bocciato l'appello proposto dallo Stato italiano contro la multa combinata nel 2009. All'epoca la Commissione di Bruxelles scovò e punì una falla nel sistema dei controlli interni della regione, un rischio per la trasparenza ed il corretto utilizzo degli incentivi riguardanti progettazioni risalenti all'erafitto. Di qui la sanzione e il taglio forfettario del 10% dei fondi del POR. Contro la decisione l'allora presidente Vendola si oppose e trovò sponda a Roma che propose ricorso alla Corte Europea. Ma dopo il primo rigetto lo scorso anno è arrivato il secondo che ha chiuso la partita. Nel frattempo gli uffici regionali hanno adottato le contromisure. L'overbooking di progetti in più rendi contato all'epoca ha assorbito il taglio ai finanziamenti. In pratica tutte le vecchie opere progettate hanno ricevuto gli incentivi. Il rammarico è che se i giudici avessero accolto il ricorso, la regione avrebbe incassato gli 80 milioni congelati. Una boccata ad ossigeno per l'attuale quadro degli aiuti comunitari, partito in ritardo e con notevoli difficoltà di cofinanziamento.